Un evento dedicato ai più piccoli organizzato dalla Prefettura dell'Aquila in coordinamento con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Direzione Scolastica Regionale. La Caserma Pasquale ha ospitato ieri una manifestazione rivolta agli alunni delle scuole primarie di primo grado. Sotto la guida di personale esperto, gli studenti hanno imparato cosa fare in caso di infortunio in montagna, come comportarsi in situazioni di emergenza e quali accorgimenti adottare per evitare pericoli quando si esplorano sentieri e alture. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse componenti del sistema di protezione civile, tra i protagonisti nel reggimento alpini, storicamente impegnati in attività di soccorso e prevenzione in ambiti montani, ma non solo. Hanno partecipato alla finanza il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Gruppo Carabinieri Forestali Meteomont, la Questura dell'Aquila, il Club Alpino Italiano, Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e molti volontari della protezione civile. I bambini, attraverso giochi e dimostrazioni, si sono immedesimati nei soccorritori e hanno appreso divertendosi i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza. Con i corpi dello Stato, con il nostro volontariato e con il sistema di protezione civile in senso generale. Una giornata che si inserisce, anzi direi la giornata clou a livello territoriale della settimana nazionale della protezione civile. E quindi la festa dedicata a questi bambini che oggi giocheranno con tutte le nostre attrezzature, prenderanno contatto con questa realtà, ma soprattutto prenderanno, diciamo sì, la responsabilità, incarico la responsabilità di fare da grillo parlante verso noi adulti per essere già da oggi protezione civile e perché no anche i volontari di domani. Le missioni di pace eserci italiano sono ben note a tutti. Non dobbiamo stare qui a ricordarle, fin dal 1982, delle prime operazioni in Libano. Manca a fare apposta in Libano che adesso è sede di quello che stiamo vedendo. La Cerenosa è sempre distinta in queste missioni, portando quella professionalità e quella sinergia di intenti che ha permesso di salvare infinite vite umane. Siamo un esercito pronto a questo, siamo un esercito anche pronto alla difesa dei confini nazionali.